Amici giocatori, amiche e giocatrici bentornate sul nostro canale Poche ore fa CD Projekt Red ha pubblicato il primo, primissimo anzi assaggio di come apparirà Cyberpunk 2077 Sulle console di generazione corrente di next gen, anzi dovrei dire ormai current gen anche per la Xbox Series X Ma non importa, il gioco è fantastico, tutti i dubbi che avevamo sul rinvio, sui problemi, su tutto ciò che riguardava lo sviluppo sulle piattaforme di generazione passata come PlayStation 4 e Xbox One Si sono stati dissipati molto molto bene dal team di sviluppo che ci ha fatto una bellissima comparazione tra il gioco in performance su Xbox One X e Xbox Series X Le differenze ci sono ovviamente perché la nuova macchina di Microsoft può contare su molta più potenza, sul ray tracing e l'illuminazione dinamica Insomma ci sono tante differenze ma il gioco è splendido anche per i possessori di console di generazione passata Potete vederlo tranquillamente voi, facciamo vedere qualche clip qui Il gioco sembra in ottimo, in ottima, in ottima forma e finalmente riusciamo a dare un'occhiata di più al gameplay di Cyberpunk 2077 Non solo la Braindance ma anche i veicoli e soprattutto i combattimenti in prima persona Una scelta tanto criticata quanto apprezzata da una frangia diversa dei giocatori Come potete vedere la versione su Xbox One X è leggermente meno dettagliata Quindi non ci sono le ombre come su Series X, il livello generale dell'illuminazione è molto meno evidente Ma il gioco è comunque incredibilmente notevole Anche i dettagli dei visi e delle espressioni si vanno un po' a perdere Ma quello potrebbe anche essere dovuto alla qualità di YouTube che sappiamo non comprime i video proprio benissimo Il gioco uscirà quindi, si spera, il prossimo 10 di dicembre È una data molto vicina, mancano meno di tre settimane Quindi tenetevi forte, allacciate le cinture e ci vediamo a Night City Mi raccomando, continuate a supportarci, iscrivetevi al canale YouTube Mettete mi piace alla pagina Facebook e il follow su Instagram Ciao, alla prossima! Ciao!